Sì, siamo arrivati ieri. Io sono Lisa, tu come ti chiami? Michael, mi chiamo Michael. Ehi! Lui è quello nuovo della palatina C. Dai, dai, dai! Preso! Bravo! Laura, eschi dal bagno. Non troppo, la mamma se ne accorge e cerca di tagliare dritto. Non sono stupida. Hai detto a tutti che sei un maschio. Perché l'hai fatto? Non troppo, la mamma se ne accorge. 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 Grazie a tutti.